Siamo con Giulio Corrazza del Toriglia, dirigente. Giulio, direi una bella partita giocata bene da entrambe le squadre. Dimmi un po' le tue impressioni sulla partita e quali sono le vostre ambizioni nel campionato. La partita oggi è stata a due facce, secondo me. Primo tempo molto buono nostro, siamo andati in vantaggio, abbiamo creato anche diverse situazioni. Secondo tempo siamo un po' calati, sicuramente loro sono una buona squadra, quindi ci hanno messo in difficoltà, hanno trovato il pareggio, quindi il risultato secondo me è corretto. Quindi da quel punto di vista l'1-1 ci sta. Per quanto riguarda il campionato, il nostro obiettivo è quello di salvarci, di fare una salvezza buona, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, siamo un po' calati in seconda parte del campionato, però abbiamo fatto un ottimo risultato. Quindi il nostro obiettivo è quello di andrambe. Ok, ti ringrazio, ciao.